Ciao a tutti, oggi parliamo della cheiletelliosi, che è una patologia causata da un acaro che si chiama cheiletiella. Il nome è un po' difficile da pronunciare, però perdonatemi se non lo pronuncerò sempre correttamente. Prima di iniziare questo video vi ricordo che se siete interessati agli argomenti medicina veterinario, se siete un proprietario di un cane o di un gatto, iscrivetevi al canale qua sotto. In questo canale parliamo di patologie del cane e del gatto e cerco di spiegarvele nella maniera più semplice possibile. In più, cerco sempre di darvi qualche consiglio. Per quanto riguarda invece il video, se volete supportare il progetto, vi ricordo sempre di mettere un bel mi piace. Che cos'è? Che parassita è cheiletella? È un acaro che vive di solito sul pelo, sul mantello dei nostri animali, soprattutto i gatti, l'ho visto soprattutto nei gatti, e che fondamentalmente si nutre della cute dei nostri animali. Cosa vediamo quando il nostro animale ha cheiletiella? Fondamentalmente abbiamo questo aspetto del gatto polveroso, farinoso, perché ha presenza un'eccessiva esfoliazione, quindi presenza di squame, forfora, tantissima forfora, ma anche molto grossa la forfora, e chiaramente può dare un prurito moderato, e quindi il gatto potrebbe grattarsi e quindi poi presentare delle piccole croste, delle piccole lesioni. Di solito, se ci sono più gatti, possono essere coinvolti più animali, perché comunque è abbastanza trasmissibile. Può colpire anche i cani, può colpire anche gli esseri umani, però, ripeto, io l'ho vista molto spesso nei gatti. La diagnosi, ovviamente, di anni differenziali, sono con gli altri parassiti, quindi tutti gli acri della demodicosi, le pulci, i pidocchi, quindi fondamentalmente, tendenzialmente, la diagnosi è su malattie parassitarie. Di solito, attraverso un pettine, si prende queste squame, questa forfora, e si può vedere fondamentalmente il parassita. Di solito non va a occupare gli strati superficiali e profondi della cute, come invece succede, per esempio, nella demodicosi. In fondo al video vi metterò i vari video sulla demodicosi e anche sugli antiparassitari del gatto. La terapia è abbastanza semplice, nel senso che, generalmente, io, per i gatti, vi metterò il video anche qua sopra, cerco di applicare un prodotto che uccide, diciamo, la maggior parte dei parassiti, sia interni che esterni. E il prodotto che di solito si consiglia, quindi, a base di selamectina, o comunque moxidectina, parliamo di Stronghold Advocate, di solito, chiaramente, uccide tranquillamente chieletella. Quindi, se fate, chiaramente, i trattamenti ai vostri animali, in modo regolare, fondamentalmente chieletella non la vedete. Effettivamente chieletella io l'ho vista in 13 anni, due o tre volte, e non di più. Quindi, chiaramente, i prodotti antiparassitari in commercio, su prescrizione medico-veterinaria, che, ripeto, coprono la maggior parte dei parassiti esterni, vi permette, chiaramente, di non avere questo tipo di problema. Spero che questo video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo alla prossima puntata. Un saluto a tutti!